Il commissario Zappalorto aveva cominciato abbastanza bene il suo operato ma è andato sempre più impeggiorando. Quest'ultima mossa del confermare appunto questi dirigenti che sono esterni alla pianta organica è in perfetta linea con l'amministrazione di centro-sinistra degli ultimi vent'anni, cioè tutelare i forti e bastonare i deboli. Zappalorto accusano i militanti del Movimento 5 Stelle, ha tagliato lo stipendio delle maestre dei nidi e dei vigili che escono in servizio notturno e festivo per difendere il posto di sette dirigenti esterni che a norma di legge sarebbero già dovuti andare a casa. La norma del testo unico degli enti locali è molto chiara, cioè questi dirigenti sono nominati intuito persone, cioè sulla fiducia da parte del sindaco e quando il sindaco va a casa anche questi dirigenti devono lasciare il posto e andare a casa. Quindi avremmo avuto un risparmio di circa 800 mila euro all'anno con i quali avremmo potuto tagliare, non tagliare lo stipendio appunto dei vigili, delle maestre. Nel 2013, chi osa Davide Scano, l'amministrazione Orsoni ha avuto il coraggio di aumentare di sette il numero dei quadri e di uno quello dei dirigenti. La struttura del comune sta esplodendo e purtroppo il commissario sta procedendo nel solco tracciato dal centro-sinistra. Se in primavera toccherà a noi amministrare la città, le cose cambieranno radicalmente. Non è più possibile andare avanti con un dirigente ogni 40-45 dipendenti comunali.